Recentemente sono state fatte delle verifiche geologiche per la costruzione del ponte di Isella da parte della società incaricata da Lanas. Abbiamo avuto un incontro in Regione Lombardia organizzato dal Vice-Segretario Parolo. Qui si è fatto il punto sui due ponti di Annone Brianza e soprattutto di Civate. I tempi di realizzazione del ponte di Isella saranno dilazionati di due mesi sui tempi di realizzazione del ponte di Annone Brianza. La posa della struttura verrà eseguita in una sola notte. L'obiettivo è di avere il taglio del nastro entro la fine del 2018. All'incontro oltre a me erano presenti il consigliere dell'amministrazione comunale di Civate Vittorio Colombo, il sindaco di Annone l'architetto Patrizio Sidoti, l'ingegnera Avurro di Anas, l'ingegnera Rossi dello studio Rossi che è il progettista del ponte sia di Civate che di Annone e ovviamente il consigliere Parolo di Regione Lombardia.